Io sono Anna Maria, ho 28 anni e vengo dalla Sardegna. Nella vita mi occupo di diritto, ma la mia passione sono i viaggi. Quindi Donna Ventura per me è stata la realizzazione di un sogno. Qua la Twill, seduta in queste sedie, in questo stesso campo base, esattamente un anno fa a quest'ora, è iniziata questa avventura, quindi per me è un grandissimo déjà vu. Però mi piace, è un déjà vu con vibrazione positiva. Quando ero piccola, piccola intendo dire magari 15-16 anni, guardavo sempre Donna Ventura in televisione e sognavo con Donna Ventura, dicevo vedi un po' beate queste ragazze. Poi ho iniziato a maturare l'idea che forse potevo essere una Donna Ventura, perché tutto sommato mi ci sentivo, pensavo cavolo sono adatta perché a me piace un po' l'avventura, mi piace guidare, mi piacciono le scampagnate, mi piace sporcarmi di fango se necessario, non faccio capricci sul mangiare. it's not my sosial it's not my biggest piggy! it's not my biggest piggy! it's not my big technology it's not my biggest Nissan it's not that we hadova it's not my biggest thing Cosa vi avevo detto raga? Con il kayak si raggiunge ogni caletta Una prova difficilissima Uno scivolo Uno scivolo Io non avevo mai fatto surf, ma penso che da oggi in poi ci riproverò, diventerò una vera pro. I quattro mori sono stati adottati come bandiera ufficiale della Regione Sardegna nel 1950. La bandiera è composta da uno sfondo bianco, una croce rossa e quattro teste di moro bendate girate tutte dalla stessa parte. E' troppo bello. Siamo iniziato e finito insieme. Tra la tenda numero due della Thwin, al paracadute sopra Firenze. Non so se voi ci state vedendo, ma qua su è una roba spettacolare. Non so se scenderò in breve, ve lo dico. Bellissima! Cioè perché non l'avevo ancora fatta? Perché? Meno male che ci dà un'avventura. Emozionante! Sì, tantissimo! Allora la partenza è super adrenalinica, poi quando si è suddico di tutto il paesaggio. Paracadute, parapendio, segui, cosa mi manca? Niente! Niente! Questa volta ha vinto la lupa. Ragazze, visto che mi chiedete sempre cosa vogliono dire Eia ed Ayo, ve lo spiego una volta per tutte, così lo potete usare nel modo giusto. Ayo significa andiamo ed ogni tanto lo usiamo anche come incitazione, come per dire dai, mentre Eia significa semplicemente sì. Quindi dopo questa breve lezione, ma intensa, non potete più sbagliare. Allora, Ayo! Bravissima! Adesso stiamo personalizzando la nostra ciotola con degli stencil, dei timbrini praticamente. E stiamo facendo kayak sul lago. Siamo bravissime. Sto facendo. Io mi sto facendo trasportare l'ombra. Qua c'è ragazzi? Eh certo! Qua c'è! Qua c'è! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo un po' matte, ma scopriamo sempre delle belle chicche.